Quanto costa abbonarsi all'Allianz Stadium? Più che mai, più di quanto non sia mai costato. Sono infatti usciti i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2018-2019, per la Serie A ovviamente, e sono prezzi da capogiro. La protesta degli utenti, dei tifosi e degli abbonati storici sta impazzando sui social. Ho letto tantissimi commenti critici incazzati, veramente incazzati per questi aumenti. E ovviamente chi protesta, secondo me, in buona parte ha ragione, o comunque ha le sue fondate ragioni per protestare, perché ci sta che uno, soprattutto se è già abbonato, considera quell'abbonamento, quel posto nello stadio come suo, in qualche modo come se gli appartenesse. È un po' come un aumento delle tasse. Utilizzi un bene, utilizzi un servizio costantemente negli anni, a un certo punto cambia il prezzo che devi pagare per quello stesso bene, quello stesso servizio, al cui non puoi o non vuoi rinunciare, e quindi ci sta che ti incazzi. Vi dico i numeri che ho annotato, anche con l'aiuto preziosissimo di Maurizio Romeo, o meglio, non è che lui ha aiutato me, sono io che sono andato a prendere i suoi numeri. Maurizio Romeo, seguitelo su Twitter assolutamente, perché ha fatto un lavoraccio che merita assolutamente attenzione, ha preso i numeri e ha elaborato anche le percentuali di aumento che ho estrapolato dalle sue tabelle molto ricche di dati, vi dico soltanto quelli che ho ritenuto più essenziali. Allora, intanto vedo per settore per settore. I prezzi sono questi, per i rinnovi. Est, primo anello centrale, 2.055 euro. Est, primo anello laterale, 1.145 euro. Est, secondo anello centrale, 1.320 euro. Est, secondo anello laterale, 925 euro. Tribuna Family, 1.035 euro. Ovest, 1, laterale, 1.130 euro. Ovest, 2A, 1.030 euro. Ovest, 2A, 795 euro. Nord, sud-est, secondo anello, 675 euro. Nord, 595 euro. Sud, 595 euro. Questi sono i prezzi per i rinnovi. Parliamo di un aumento medio del 30,71%. Il 30,71% che in euro, l'aumento medio in euro è di 241,36 euro per abbonamento in media. E vi dico l'aumento più consistente in percentuale è quello della tribuna Ovest, secondo anello laterale, 37,1% in più. I prezzi per i nuovi abbonamenti sono ancora più alti. Abbiamo praticamente tutti i settori, tranne Ovest, secondo anello laterale, Nord, Sud, Est, secondo anello laterale e Nord e Sud, sopra i 1.000 euro. Tutti gli altri settori costano almeno 1.000 euro. Infatti abbiamo Est, primo anello centrale, 2.370 euro. Primo anello laterale, 1.280 euro. Secondo anello centrale, 1.435 euro. Secondo anello laterale, 1.000 euro. Femili, 1.160 euro. Ovest, 1.260 euro. Ovest, 2.A, 1.150 euro. E poi abbiamo secondo anello laterale, 880 euro. Nord, Sud, Est, 745 euro. Nord e Sud, 650 euro. Per i nuovi abbonamenti parliamo di un aumento medio del 30,77 euro. Quindi stiamo lì, 30,71% in più per i rinnovi, 30,77% in più per i nuovi, con però un aumento che in euro si fa sentire un pochino in più, l'aumento medio in euro per i nuovi abbonamenti è di 269,09 euro rispetto ai 241% dei rinnovi. Quindi sicuramente i prezzi sono aumentati. Sono aumentati tanto e è il più grosso aumento dei prezzi degli abbonamenti per l'Allianz Stadium. Tra l'altro, il prezzo medio per partita, grosso modo, si aggira intorno ai 35 euro. Altro dato che ha stravolato Maurizio Romeo. E quindi da qui capiamo che tutti i prezzi, cioè il prezzo più basso per una partita di serie A della Juventus sarà 40 euro, grosso modo. Perché se il prezzo medio degli abbonamenti è 35, la logica vuole che il prezzo minimo per i non abbonati sarà di almeno 40 euro. Allora vi do le mie considerazioni. Io capisco le proteste degli utenti, sicuramente perché, ripeto, vedersi aumentato una cosa a cui uno tiene, a cui non vuole rinunciare, assolutamente fa male, dà fastidio. È giusto anche dire che non sembra tanto giustificato questo aumento, almeno con la campagna acquisti è ancora da fare. C'è anche timore che, oltre a non riuscire a fare una campagna acquisti faraonica alla Juventus, tale da giustificare questi aumenti, possano neanche esserci eccezioni importanti. Come ci sono già state, si paventa, si era già detto Alex Sandro, ok, ma si paventa anche Dybala, si sta parlando di Pjanic a Barcellona, e quindi il timore dei tifosi è anche questo. Io però non la vedrei tanto in quest'ottica, cioè il prezzo degli abbonamenti non deve essere parametrato alla campagna acquisti, né al valore medio della squadra. Sicuramente deve essere parametrato ai risultati. La Juve sono sette anni che vince in Italia, in campionato, soprattutto perché è per quello che contano gli abbonamenti, quindi ci sta che ci sia un aumento considerevole anche degli abbonamenti. Forse non così tanto, però che ci sia un aumento anche del 30%, in teoria ci può anche stare, non dovrebbe essere parametrata la campagna acquisti. Quello che non capisco sono le proteste di chi dice io sono abbonato da tanti tanti anni, mi risulta sempre più difficile rinnovarlo. Ma se non puoi non lo acquisti, lo acquisterà qualcun altro. Aumentare i prezzi in generale nell'economia serve anche per avere un ricambio di utenza. Non ci sono sempre gli stessi, arriverà qualcun altro che magari finora non è mai stato abbonato e ha risparmiato soldi per anni per poter andare per un anno intero all'Allianz Stadium e acquisterà l'abbonamento di chi esce. Infatti il punto è questo. Bisogna anche osservare che se alla fine gli abbonamenti saranno venduti, pace, amen, non c'è molto da dire. Significa che sarà stata una strategia vincente. Il punto è, qualora, casomai, dovessero rimanere molti abbonamenti non acquistati. Allora evidentemente sarebbero prezzi troppo alti. Intanto mi pare che i rinnovi partano dal 5 luglio, comunque dalla prossima settimana e poi a seguire gli altri. Dico però anche un'altra cosa e poi chiudo. Secondo me quello che va migliorato veramente non è tanto il discorso dell'abbonamento o quello che poi comporta a livello di servizio, ma è invece il servizio di acquisto, anzi di vendita, dei biglietti singoli per le singole partite, per i non abbonati. Perché è lì che da tempo la Juventus è carente, perché si affida al servizio di Sticket che ha delle falle, ha dei difetti grossi. E io personalmente ad esempio non sono mai riuscito ad acquistare un biglietto non essendo abbonato per l'Allianz Stadium sul circuito di Sticket perché è veramente difficilissimo. Il sistema salta mentre lo devi acquistare, troppi accessi simultanei, alla fine non riesci a prendere il biglietto. E come me tanti, tanti di voi probabilmente, tante volte avete dovuto rinunciare ad andare all'Allianz Stadium perché non siete riusciti ad acquistare il biglietto. E' più su quello che mi concentrerei. Poi, ripeto, il discorso Ah, di cavolo, quest'anno non posso essere abbonato all'Allianz Stadium. Pazienza. Sono cose che succedono comunque. Non è che uno per forza ha il posto garantito in quella tribuna, in quella curva. Ci sta, ripeto, anche un ricambio. A quelli che però si aspettano o che addirittura sono convinti che arrivi Cristiano Ronaldo alla Juventus, top per Cristo, questi prezzi, dico, beviamoci un bel cocktail fresco con un bel po' di ghiaccio e lasciamo perdere queste idee pazze, pazze, pazze. A tal proposito, su Cristiano Ronaldo per ora non vi dico nessun'altra parola, ma se vi va, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi video così rimanete in contatto con me e vedrete se magari farò anche qualche aggiornamento sulla questione CR7 alla Juve di cui si sta parlando in queste ore. Se vi è piaciuto il video, mettete like. In descrizione trovate anche i link per seguirmi sui social. Mi raccomando, seguitemi anche sui social dopo esservi iscritti al canale. Aspetto i vostri commenti anche con le vostre esperienze da abbonati o da semplici frequentatori dell'Allianz Stadium. A presto e sempre Forza Juve!